Un gran galà per rilanciare la settima edizione del premio Eleonora Lavorre che quest'anno celebrerà la consueta finalissima sul prestigioso palco del Teatro Parioli di Roma. E per onorare questo ennesimo salto di qualità di una produzione interamente made in gela, il patron Giuseppe Lavorre, che sette anni fa si inventò questa manifestazione per ricordare il grande talento artistico della sorella Eleonora scomparsa troppo presto, ha portato sul palco delle Mura Timoleontè le voci più belle che sono state protagoniste delle scorse edizioni. Un evento diventato il simbolo dell'estate gelese per il quale la città ancora una volta ha risposto alla grande. Ringrazio sempre Gela che ha partecipato sempre con una presenza immensa, quindi grazie di vero cuore sempre e le voci sono state fantastiche. Poi questa location diventa magica alle Mura Greche e tutto è stato un momento unico, quindi grazie di vero cuore, è stato bellissimo. Continua il dicembre con la semifinale, sarà sempre a Roma e poi a gennaio il grande evento, la finale internazionale premio Eleonora Lavorre con la presenza di cinque stati stranieri e tutte le regioni d'Italia in una location unica che è il Teatro Parioli di Roma. Dieci cantanti si sono alternati sul palco assieme a un nutrito parterre di ospiti e di eccellenze gelesi. Nel Dream Team degli artisti anche diversi vincitori delle scorse edizioni come Jessica Zarbo che si aggiudicò la finale del 2017 con una splendida versione del successo di Lucio Dalla Caruso. È stata un'esperienza bellissima e comunque ritornare su questo palco è come sentirsi a casa. Ho rivissuto tutti i momenti che ho passato ovviamente durante l'anno 2017 in cui ho vinto questa edizione, è stato veramente molto emozionante. Si è sentito un grande calore dal pubblico e quindi ringrazio veramente Giuseppe Lavorre per questa opportunità, grazie. Cos'è cambiato da quella vittoria nel 2017? Sono cambiate tante cose, grazie a quella vittoria ho realizzato un inedito da cui sono scaturite altre cose, poi sono andata avanti per quanto riguarda la mia carriera artistica e ho intrapreso anche la strada del conservatorio quindi grazie a Giuseppe sono entrata in vari posti in cui grazie a lui adesso sono comunque andata avanti. Sul palco anche tanti ospiti dall'Associazione Orizzonte alla band siciliana Bella Morea fino ad arrivare a Samuele Di Natale che ha commosso il pubblico con la sua Non arrenderti mai. Il brano diventato manifesto dell'autismo scritto da Emanuele Bunetto. Aver scritto questo brano e fare in modo che questo rappresenti appunto un inno per l'autismo, appunto per i ragazzi come Samuele, per me mi riempie di orgoglio. Sono contento che Giuseppe Lavorre quest'anno mi abbia coinvolto oltre come compositore del brano anche in qualità anche di direzione un po' artistica del premio. È sempre una grande emozione perché sono davvero legato al premio Nelonore Lavorre. L'appuntamento adesso è per la finalissima di gennaio nella Capitale dove insieme ai cantanti in gara provenienti da tutto il mondo ci saranno anche tantissimi ospiti di levatura internazionale. Grazie a tutti.